Onorevole si ferma? Onorevole, buongiorno, buongiorno, aspetti, aspetti, non l'hanno fatto parlare? Parlo troppo bene, sono invidioso. Ma le è mancato parlare a Pontida, è la prima volta che non parla? Un invito ad andare via dalla Lega. È stata un'offesa personale oppure un attacco politico? Penso che sia un invito ad andare via dalla Lega. Ciao carissimo, ciao Dario, vai tranquillo.